Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà. Conoscerai la verità. E la verità ti farà libero. Un programma creato per formare discepoli. Bene, benvenuti di nuovo a queste puntate di Conoscerete la verità. Come sapete stiamo facendo dei riassunti, delle studi che fanno parte della scuola di conoscenza biblica del Ministero Uomo di Pace. E materiale con il quale tu puoi cominciare a casa tua una scuola biblica. Inizialmente quello che stiamo facendo adesso è presentare un riassunto dei temi che si vedranno durante la scuola biblica. Per quelli che vorranno aprire le porte di cassa. Sai Pietro ha aperto le porte della sua barca a Gesù Cristo per predicare la parola. In poche parole ha aperto la barca alla parola. E come conseguenza lui ha messo prima il regno di Dio. E a un certo punto l'operaio è degno del suo stipendio. Avendo dato spazio nella sua barca Gesù Cristo dice ok, arriva la busta paga. Voga a mare dentro e getta le reti. E beh, la storia la conosciamo. Così ogni volta che noi apriamo le porte di cassa o di quello che ci apportiene per la parola di Dio, la stessa parola di Dio provvederà ai nostri bisogni. Ma andiamo a vedere il regno di Dio. Oggi vedremo il riassunto di il regno di Dio. Il regno di Dio è interessante. Che cosa è un regno? Per esempio noi abbiamo il regno di Inglaterra, la Gran Bretagna e il regno ha le sue leggi. Noi viviamo, anche se è un regno, regna, valga la rebondanza, la democrazia. Dio è teocratico, non è democratico. Vuol dire che tutto scende dall'alto verso il basso. E ogni regno ha le sue leggi. Se tu per esempio vai in Inglaterra, nel regno di Inglaterra, tu non puoi guidare del lato destro come noi guidiamo. Devi guidare dal lato sinistro. E infatti appena esci c'è un grossissimo cartello che dice state attenti alla sinistra e non alla destra. Ma come tu sei abituato al regno, chiamiamo il regno d'Italia, per farti una comprensione di come noi dobbiamo rinnovare la mente per comprendere i principi del regno di Dio, che sono diversi ai regni terreni, cioè sono completamente l'opposto. Quando tu esci dall'aeroporto, per istinto hai la tendenza di guardare di questo lato qua, perché dal nostro lato le macchine vengono di qua. E ora quando tu guardi dall'altro lato, se tu non guardi dall'altro lato, probabilmente rischi di essere travolto da una macchina. Per quello che è così importante è che noi quando viaggiamo in Giappone, in Australia o in Inglaterra, o dove si guida dall'altro lato, rinnoviamo la mente in questi principi. Io mi ricordo che una volta in Australia ho dovuto guidare, appena da pochi giorni mi hanno chiesto di guidare una macchina da una parte della città all'altra, guidando completamente del lato opposto. L'unico che mi ricordo è che guidando tutto il tempo picchiavo la mano contro la portiera, perché di riflesso, per passare i cambi, noi siamo abituati a guidare di questo lato, il volante di questo lato, e mi partiva subito, quando dovevo cambiare le marce, la mano verso la destra, e in realtà devi utilizzare la sinistra per cambiare le marce. E lo stesso discorso noi lo dobbiamo applicare al Regno di Dio. Il Regno di Dio è completamente diverso. E per poter entrare nel Regno di Dio tu devi rinnovare la mente, cominciando dalla nuova nascita. Giovanni capitolo 3, versetto 13, Gesù rispose a Nicodemo, che viene di notte per paura ai farisei, dice in verità, in verità ti dico, se uno non è nato di nuovo non può vedere il Regno di Dio. Nicodemo le rispose, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità dico, che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel Regno di Dio. Allora notate che il Regno di Dio si deve vedere e si deve entrare. Quando tu nasci di nuovo tu entri nel Regno di Dio. Ma per poter vedere il Regno di Dio noi non camminiamo per visioni, ma camminiamo per fede, dice Paolo. Il Regno di Dio è qualcosa di concreto e di reale. È formato dall'esercito del Signore, ci sono le angeli. Dio ha fatto di noi dei re i sacerdoti. Guarda quello che dice Apocalisse 1, versetto 5. È da Gesù Cristo, il testimone di fedele, il primogenito dei morti, è il principe dei re della terra. A lui che ci ama e ci ha liberato dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ma lui ha fatto di noi un regno. C'è un'altra versione che dice ha fatto dei re e dei sacerdoti. Ma noi siamo il regno di Dio. Lui ci ha trapassato, dice la Bibbia. La Bibbia, lasciatemi cercarlo, con lo stessi capitolo 1, versetto 13. Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre, cioè del regno delle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Vuol dire che noi quando siamo nati di nuovo, siamo entrati nel regno dei cieli senza muoverci di un posto. Cioè lui ci ha trasportato, lo dice la Bibbia. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ha cancellato il peccato, ci ha liberato dell'autorità che il diavolo aveva su di noi. A motivo del peccato e ci ha trasportati senza muoverci nel regno della luce o al regno del suo amato figlio. Nota che noi siamo entrati nel regno di Dio, dei cieli, senza muoverci. Cioè io ho ricevuto Gesù Cristo e sono stato trasportato. Paf! È una terza dimensione. Che rinnovando la mente io la posso conoscere. Che attraverso la parola di Dio posso conoscere i principi che mi permettono di soffruire dei benefici del regno dei cieli. Alleluia! È importante conoscere questo studio sul regno di Dio. Ora, comprendere il regno. Nota che nel Padre Nostro una delle cose che dice è venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Vuol dire che il regno dei cieli deve venire sulla terra. Oggi non lo vediamo, è già dentro la terra. Anzi, addirittura è dentro di noi. Ve lo farò vedere con la Bibbia questo. Ma si deve manifestare. Perché se manifesti noi dobbiamo fare la sua volontà. Qui dice sia fatta la tua volontà. Sì, da un lato è vero che dobbiamo pregare che sia fatta la tua volontà. Ma dall'altro lato, Romani capitolo 12, versetto 2, dice non conformatevi a questo mondo, cioè ai regni di questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della mente per conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio, quella gradita, buona e perfetta. Ah, tu devi chiedere che sia fatta la volontà, ma dall'altro lato tu devi rinnovare la mente per conoscere quale è la volontà di Dio. La famosa frase, se Dio vuole. Se Dio vuole. Se tu vai al contesto di quella famosa frase, se Dio vuole, e sta parlando a quelli che sono governati dall'amore ai soldi, e dice voi che dite, andremo là, commercieremo qui e faremo questo e l'altro, voi piuttosto dovrete dire, se Dio vuole faremo questo. Poi quello, quella frase di se Dio vuole, non è per i figli di Dio. Noi dobbiamo sapere qual è la volontà di Dio per farla. Non chi mi chiama Signore, Signore, entrerai nel Regno dei Cieli, ma coloro che fanno la mia volontà. Quanto importante è conoscere la volontà di Dio, se Dio vuole. E quella è una risposta pigra, se Dio vuole. L'altro giorno mi sono trovato con una sorella, dico ci vediamo domenica in chiesa, se Dio vuole. Come se Dio vuole? Se Dio vuole. E il giorno consacrato al Signore, certo che Dio vuole. Come se Dio vuole? Se Dio vuole. E' come dire, se Dio vuole che abbia lunga vita. Tu onora tuo padre e tua madre e avrai lunga vita sulla terra, se Dio vuole. Certo che vuole. Noi dobbiamo conoscere la volontà di Dio. Non arrabbiarti, se tu sei uno di quelli. Ora, Matteo capitolo 13, versetto 10 dice, allora i discepoli si avvicinarono e gli disse, perché parli a loro in parabola? Perché a quelli di fuori tu parli in un modo che loro non capiscono? E gli rispose, perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Cioè a loro chi? Ai discepoli. Se tu sei un discepolo, sai qual è la cosa tremenda? Oggi molti non conoscono i misteri del Regno dei Cieli, per il semplice fatto che non sono discepoli. Oggi le chiese sono piene di credenti, non di discepoli. I discepoli? Che cos'è un discepolo? Questa è una bella domanda. Che cos'è un discepolo? Il discepolo non è quello che frequenta la Chiesa. Chi frequenta la Chiesa? Dove è scritto che dobbiamo frequentare la Chiesa? Qualcuno mi dice, lasciatemi finire, non scandalizzatevi, lasciatemi finire. Uno mi dice, non abbandonate il raduno comune, dice Romani, se non mi sbaglio, o ebrei. Comunque, non abbandonate il comune raduno, come alcuni sono soliti a fare. E viene applicato il comune raduno alla Chiesa. Ma è interessante che la Chiesa è stata formata come istituzione, come struttura, come Chiesa, come quattro mure, nel 313 d.C. da Costantino, dall'imperatore Costantino. Vuol dire che le pistole, quando sono state scritte, non sono state scritte per il concetto che noi abbiamo di Chiesa. Cioè un pulpito con tante serie e uno che fa un monologo. Le Chiese erano fatte nelle case. E quando parlava di questo raduno, parlava delle Chiese in casa. Quando veniva scritta la Chiesa, l'Epistola alla Chiesa dei Romani, qual era la Chiesa alla quale era stata inviata l'Epistola? Qual era? Era la Cattolica, la Protestante, l'Ortodossa? Qual era la Chiesa alla cui l'Epistola ai Romani? Perché in Roma c'erano tante Chiese, ma era una sola Chiesa, tutte nelle case. Nessuna dell'Epistola è stata scritta a un edificio. Sono state scritte alle comunità che si trovavano tutte nelle case. Per quello io devo capire, per capire la profondità della parola, una delle cose che devo fare è adattarmi al modello che Dio aveva prestabilito all'inizio e nel tempi delle atti. Affinché io possa adattare quello che Dio dice ai tempi di oggi. Comunque andiamo avanti. Chi sono i discepoli? Davide dice in Giovanni capitolo 8, versetto 31 e 32, dice, parlando a quelli che avevano creduto in lui, disse, se perseverate nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli. Cioè vuol dire che se io voglio essere un discepolo e per conseguenza conoscere i misteri del regno di Dio che applicando nel presente mi danno i risultati di Dio, io devo persistere nella parola. Numero uno, credere e persistere nella parola. Ripeto, disse a coloro che avevano creduto, se perseverate o dimorate nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli. E poi aggiunge, e conoscerete la verità, e la verità ti farà libero. Molti conoscono il versetto, conoscerai la verità e la verità ti farà libero. Ma tu sapevi che il versetto precedente parlava solo ai veri discepoli e non a tutti? Per quelli molti non possono conoscere la verità. La verità non è solo Cristo, cioè in quanto alla salvezza. La verità è che Cristo è morto anche per guarirti, per prosperarti, per benedirti, per trasformare la tua vita. Ma per conoscere quelle verità per esperienza hai bisogno di diventare un vero discepolo. Comunque, un discepolo è uno che mette prima il regno di Dio. Non siete dunque in ansia, Matteo 6,31, dicendo, nota che l'ansia parla, così come la fede parla, l'ansia parla. Che mangieremo o che berremo? Di che vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, sono quelli del regno del mondo che cercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro, Celeste, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dio sa di che cosa hai bisogno. Ascolta, sorella, tu che ti lamenti sempre. Dio sa di che cosa hai bisogno. E perché non risponde? Sai perché non risponde? Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Nota che a volte non è questione di pregare per i bisogni, perché Dio già sa quali sono i tuoi bisogni. A volte è questione di cambiare le priorità. Se tu sei una persona che non cerca e non mette prima il regno di Dio, è inutile che tu continui a pregare, perché la risposta la trovi nell'azione che tu fai riguardo al regno di Dio. Ma se tu non divieni una discepola, come puoi comprendere i misteri del regno di Dio per poter metterli in pratica? È vero, devi cercarle. E guardando questa puntata stai cercando il regno di Dio. Questa è una buona notizia. Ora, lui ci ha fatto dei re dei sacerdoti. Guardate questo, Luca 17, 20, dice così. Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose a loro, il regno di Dio non viene in modo da tirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. La nuova Diodà ti dice, è dentro di voi. Ah, il regno di Dio è dentro di noi. Lui ha fatto di noi dei re e dei sacerdoti, un regno e dei sacerdoti. Per quello il regno di Dio è qualcosa che è dentro dei credenti. Quando lui ci ha trasportato del regno delle tenebre al regno di Dio, noi non ci siamo mossi. Tutto è accaduto quando noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo dentro di noi e per conseguenza siamo diventati parte del regno di Dio e il regno di Dio è dentro di me. Ora, Dio vuole che quel regno che è dentro di me, che io devo scoprire perché tutto quello che Dio ti parlerà e ti dirà viene dal dentro verso il fuori. Perché? Perché tu sei il Tempio dello Spirito Santo. No, te lo spiego di nuovo. Perché molti dicono, oh Spirito Santo scendi su di noi. Senti, tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Nell'Antico Testamento, quando il sommo sacerdote aveva bisogno di una parola, dove andava? Andava al Tempio. A quale parte? Dove c'era l'arca, il luogo Santissimo. Dove si trova oggi il luogo Santissimo? Nel mio spirito, noi siamo il Tempio. Il Tempio era composto di atro esterno, luogo santo, luogo santissimo. Corpo, anima, spirito. Nel mio spirito lo Spirito Santo è venuto a dimorare, dice la Bibbia. Quando il sacerdote, il sumo sacerdote, aveva bisogno di una parola, lui andava al luogo Santissimo e dal tabernacolo dove c'erano i due cherubini, da lì dentro, che rappresentava la presenza di Dio, usciva la parola di Dio. Interessante che quando è entrato l'arca del patto nella casa di Obededom, in tre mesi soltanto Dio ha benedetto ogni cosa. Quando noi ci rendiamo corto che quell'arca del patto, cioè la presenza di Dio, è dentro di noi, basta che noi la cerchiamo qui dentro. Il problema è che noi andiamo a cercarlo a Israele, all'altra parte del mondo, un qualcosa che è dentro di te. Il regno di Dio è dentro di noi, perché lo Spirito Santo è dentro di noi. E ora quando io entro nel luogo Santissimo, da dove viene la parola di Dio che mi parla, ora c'è un sumo sacerdote che è Cristo. Ora, è la parola che entra dentro di me, nel luogo Santissimo, e che viene, lui conosce tutte le mie debolezze, lui sa tutti i miei bisogni, e lui è dentro di me, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, il sumo sacerdote che entra nel luogo Santissimo a tirare fuori quelle parole che trasformano la tua vita e che ti rivelano i misteri del regno dei cieli, che quando tu li metti in azione, tu hai i risultati del regno di Dio. Alleluia! Noi non siamo di questo regno. Guarda questo. Allora, ah, questa è bellissima. Poi ti faccio vedere come Dio provvede. No, no, te lo faccio vedere adesso, aspetta. Matteo 17,24 Quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscuotevano le didramme, si avvicinarono a Pietro e dissero, il vostro maestro non paga le didramme, cioè non paga le tasse in poche parole, e gli rispose, sì, cioè Pietro viene e vengono questi qui che prendevano le tasse, e dice, oh, il maestro non paga le tasse? e lui dice, sì, sì, subito, sì, 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 arrivo un attimo, aspettate qui, vado a prendere le sigarette in poche parole, cioè, sì, 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 si gira e entra, molto perpreso, perché in realtà lui di istinto aveva risposto, ma comunque quando sta entrando, dice, sì, e quando fu entrato in casa, Gesù lo prevene e gli dice, che te ne pare, Simone, nota come lo stoppa giusto, gli dice, Simone, che te ne pare? E gli fa una domanda, i re della terra, da chi prendono i tributi o le imposte? Dai loro figli o degli stranieri? Guarda la domanda che gli fa, ora, vengono a percuotere le tasse, e lui dice, sì, sì, lui le paga, e torna per andare a dire, guarda che vogliono i soldi per pagare le tasse, e lui gli dà una lezione fondamentale, gli dice, scusa, aspetta un attimo, i re della terra, da chi prendono le tasse? Dalli stranieri o dai loro figli? E lui rispose, dalle stranieri, rispose Pietro. Gesù gli disse, i figli dunque ne sono essenti, cioè, tu hai detto che io devo pagare le tasse, ma in realtà io non devo pagare le tasse, perché io sono figlio di Dio, tu sei un figlio di Dio, e noi in teoria non siamo di questo mondo, in teoria non dovremo pagare le tasse, ma la Bibbia dice, date a Cesare quello che dice Cesare, e guarda quello che risponde il Signore, ma per non scandalizzarli, perché loro non capiranno quello che ti sto dicendo, sicuramente, va al mare, getta l'amo, prendi il primo pesce, che verrà su, apri la bocca, e troverai un estatere, prendilo e dà l'oro, per me e per te, gli sta insegnando a dipendere nel regno di Dio, e nel regno di Dio, quando io faccio la volontà del Padre, Dio provvede ogni mio bisogno. Ora, ascolta, Dio le dice a Pietro, io farò di te pescatori di uomini, io farò di te pescatori di uomini, e ora, la prima pesca che lui fa, è quando lancia la rete, prende 3.000, ma poi gli sta insegnando che la providenza della sua vita, sarà di qualcuno che lui porterà a Cristo, infatti, quando lui va, getta la cana, tira il pesce, apre la bocca, e lì c'era le risorse per pagare i suoi bisogni. In poche parole, tu metti prima il regno di Dio e io anche in maniera sopranaturale provvederò. Io ti chiamo a fare pescatori di uomini, benissimo, tu per servire a me, non preoccuparti, perché uno di quei uomini che porterai nel mio regno provvederà ai tuoi bisogni, perché chi predica il Vangelo, viva del Vangelo. Questo è quello che Gesù Cristo gli sta insegnando. Luca 18, 27, dice, Luca 18, 27, e le rispose, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Questo è il giovane ricco. Pietro disse, ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e te le abbiamo seguito. E lei disse loro, vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie, fratelli o genitori o figli per amore del regno di Dio, notate che non dice suocere, perché se no sarebbe troppo facile, dice per amore del regno di Dio, il quale non riceva molte volte tanto, c'è un altro Vangelo che dice cento volte di più, in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. Dice chiaramente che c'è una ricompensa quando tu metti prima il regno di Dio. Non solo Dio provvede ai tuoi bisogni, ma moltiplica qualunque cosa tu lasci per il regno di Dio. E notate come il regno di Dio è dentro di noi. Il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza. Presta attenzione, concludo con questo. Marco 9,19 diceva loro, in verità io dico che alcuno di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto in potenza. Il regno di Dio è potenza, ricordate questo, lo abbiamo visto, il regno di Dio è potenza e lui dice alcuni di voi non moriranno prima di vedere il regno di Dio venuto in potenza. E nota che cosa vuol dire il regno di Dio in potenza. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparti sopra un monte alto e fu trasfigurato in loro presenza dal dentro verso il fuori. Nota come loro hanno visto il regno di Dio venuto in potenza sei giorni dopo quando Gesù li porta e si trasfigura. Ricordate il regno di Dio non è da tirare l'attenzione non è qua e là il regno di Dio è dentro di voi. Per quello quando loro andavano a predicare il regno di Dio lui dice scacciate i demoni fate i segni risuscitate i morti e quando entrate in una casa dite pace e la vostra pace che è la pace perché il regno di Dio è giustizia pace e gioia e il regno di Dio è dentro di noi quando voi dite pace la pace del regno inondarà quella casa se la persona è degna. Alleluia gloria a Dio ecco il regno di Dio venuto in potenza è qualcosa che è dentro di noi lui io sono entrato nel regno di Dio perché Cristo mi ha liberato del regno delle tenebre e mi ha trasportato nel regno dei cieli che è dentro di me per mezzo dello Spirito Santo e adesso Dio vuole che noi spandiamo il regno di Dio dal dentro verso il fuori il regno di Dio non è la domenica in chiesa il regno di Dio è qualcosa che è dal dentro cominciando da me stesso la famiglia il lavoro i vicini e tutto quello che è intorno a me deve espandersi il regno di Dio si espande dal dentro verso il fuori ma quando tu cerchi Dio tu cambia le priorità tu conosci i misteri di Dio tu puoi approfondire tu metti in pratica tu gusti quella potenza di Dio perché il regno di Dio non sono parole lo dobbiamo dimostrare con i fatti ma dobbiamo avere la consapevolezza che è dentro di noi che quel regno dimora e che dal dentro verso il fuori noi lo dobbiamo spandere noi non possiamo chiudere il regno di Dio in quattro mure noi siamo il regno noi siamo un regno il re dimora dentro di noi e noi dobbiamo spandere il regno con i suoi principi affinché la gente ci veda e possa dire ah ok loro hanno qualcosa che non è di questo mondo bene vi saluto ragazzi vi benedico se volete informazioni sulla scuola biblica per aprire una scuola biblica a casa tua vai su uomodipace.it scarica la brochure con tutta l'informazione e contattaci e potrai fare tre mesi di formazione che trasformeranno completamente la tua vita vi benediciamo e ci vediamo la prossima puntata ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti